L'anime di Free Ren è bello o è brutto? Andiamo a scoprire assieme! Ciao ragazzi, io sono Stefanologhi97! Oggi vi dirò la mia su cosa ne penso dell'anime non solo tra i più attesi di quest'autunno, ma è anche tra i più attesi di questo 2023. Sto parlando dell'anime di Free Ren. Ma prima di partire con il video vi ricordo sempre di cliccare su un bel pollicione su del like e mi raccomando anche di cliccare su iscriviti e di cliccare anche sul campanello di notifiche per non perdere ogni mio video che faccio su YouTube. Inoltre se raggiungiamo i primi 1000 iscritti nel canale YouTube farò un video speciale che ci penserò su che video fare. Ma a parte queste chiacchiere partiamo subito con il video. Ma prima... sigla! Tratto dal manga shonen di Abe Yamada, l'anime di Free Ren viene serializzato dalla Madhouse con la regia di Saito, regista che ha fatto l'anime di Bochi The Rock, invece nel carattere design viene affidata a Nakazawa che questo nome non è il nuovo, dato che è quella che ha fatto la scenografia della terza stagione di Overlord. L'anime sarà suddiviso in due course, di cui sappiamo che il primo course sarà di 25 episodi, mentre il secondo course uscirà l'anno prossimo che per ora non si sa di quanti puntanti saranno. Però sappiamo che prima che uscisse l'anime, la nostra Free Ren era già comparsa in un episodio di un altro anime, che è l'episodio 9 della seconda stagione di Komi, che in quell'episodio le amiche di Komi giocano Super Smash Bros, di cui la nostra Komi sceglie come personaggio giocabile proprio Free Ren. Ma chi sarà mai quel personaggio in realtà nel gioco di Super Smash Bros? nostra amica Zelda? Ma vabbè, dettagli, una piccola menzione ci stava tanto per. La trama incomincia che un gruppo di quattro eroi, composto da Himmel, Hater, il Nanno Hazen e l'Effra Free Ren, tornano tra tionfatori dopo aver sconfitto il re demone e dopo la festa del paese per i nostri eroi, si decidono di separarsi dopo aver visto una pioggia di meteorite che si verifica ogni 50 anni e la nostra Free Ren promette ai suoi compagni e amici di avventura che si rivedranno per guardare quell'evento, ma che sa un posto migliore dove vederlo. Passano 50 anni e la nostra Free Ren, dopo aver intrapreso un lungo viaggio per migliorare la sua magia, torna nel paese e anche dai suoi ex compagni, ormai invecchiati, e dopo aver visto la pioggia di meteoriti, Himmel ci lascia le cuoie di vecchiaia. Durante i funerali, la nostra Free Ren ha un senso di colpa, perché non ha conosciuto meglio Himmel durante la loro avventura. E qui anche scopriremo che Free Ren vive più a lungo rispetto agli esseri umani, essendo che lei è appunto un elfa. Stessa cosa ha anche Aizen, che è un nano. Poco dopo, anche Aether lascia, ma poco prima di quello che succederà, dice a Free Ren di prendersi cura di Ferm, una bambina orfana che era stata adottata appunto da Aether, e durante il suo viaggio di insegnarle la magia. E la nostra Free Ren, che durante il viaggio accompagna anche Ferm, avrà una missione di cercare il paradiso, luogo dove riposano le anime dei defunti, per cercare Himmel e di esprimere i suoi sentimenti. Essendo che mi è piaciuto molto il manga, che lo ritengo uno dei migliori manga shonen in corso di pubblicazione, da quando ho annunciato i trailer dell'anime di Free Ren, avevo alte aspettative, ed ero anche molto curioso di come sarà l'anime, essendo anche un fan dell'opera, e guardando i quattro episodi che sono usciti su Crunchyroll, devo dire che l'anime mi è veramente piaciuto. Oltre ad avere un'ottima qualità visiva sugli sfondi, sui paesaggi, e anche con un ottimo caratter design, che devo dire che è anche leggermente meglio del manga. Ah, a proposito sui personaggi, frire, gambe, top! Ovviamente si scherza. L'anime mi ha divertito sulle scene divertenti, e mi ha anche commosso sulle scene tristi. Però nell'anime ci sono anche dei punti a spavore, tipo, facendo un esempio, nei dialoghi tra i personaggi si dicono che sono passati tipo 30 anni, che poi in realtà non è vero, perché poco prima di quel fatto c'era anche un testo che diceva che sono passati tipo, facendo un esempio, 27 o 28. Ma quello che mi ha fatto davvero arrabbiare, ma tipo arrabbiare sull'anime di Freeran, rimane sempre la programmazione sugli episodi. Perché inizialmente la prima puntata doveva avere circa due ore di programmazione, ma pochi giorni prima dell'uscita dell'anime si è cambiato idea e si è proposto di farle quattro episodi. Ma vabbè, dettagli. Sul finale di discorso, l'anime di Freeran non è soltanto il miglior anime che è uscito in quest'autunno, ma è anche uno dei migliori anime che sono usciti in questo 2023. E potrei dire un'azzardata anche uno dei migliori anime del genere fantasy, non il, perché ce ne sono altri meglio di Freeran. Ma quella è un'altra storia. E fin qui ho detto dell'anime di Freeran. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il video. Inoltre mi raccomando di cliccare sul bel pollicione e su dei like e mi raccomando anche di cliccare su iscriviti e di cliccare anche sul campanello delle notifiche per non perdere ogni mio video che faccio su YouTube. Inoltre in descrizione troverete i link del mio canale Instagram, i link del mio fantastico gruppo Telegram, i link del mio Twitch e anche il link del mio canale TikTok. Ci vediamo ad un prossimo video. Dal vostro Stemano Ginozzo 7! Ciao! Ciao!